Nel ginocchio controlaterale abbiamo una protesi di ginocchio già impiantata, quanti anni fa? Cinque anni fa. Cinque anni fa? Ha un'incisione mediale modificata su una pregressa incisione da minisciotomia che è scarsamente visibile, allargata per andare lungo le linee di incisione. Pieghi il ginocchio. Abbiamo un 0-130 di pressione. L'estensione completa. Tengo lì. Adesso vi faccio vedere la stabilità vista da sopra che è buona. L'estensione è buona. Ok, stop.